ciao ragazzi buona domenica e benvenuti in un nuovo video allora oggi aprirò un nuovo format sul mio canale ovvero i video reaction ho visto un esibizione veramente paurosa del vincitore del fism grand prix ovvero di eric chain quindi preparatevi all'incredibile perché questa esibizione ha fatto sì da aprire questo nuovo format sul mio canale quindi ho il computer tra le mani le mie cuffiette per non perdermi nulla e direi di cominciare subito quindi mettiamo play e scateniamo l'inferno incredibile è una carta blu è una carta rossa no tutto è blu togliendo la cordicella ovviamente l'effetto non funziona grande nooo è capito di gilet incredibile perché si è appoggiato no bravo bravissimo carta rossa lentamente sul tavolo nooo è un pazzesco bravissimo 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 Ok, ho rimosso anche La carta dal quadrato No Pulitissimo No No Cioè Cioè, questo non è possibile Bravo Incredibile Oh si è tolto di nuovo il gilet no, lo voglio rivedere assurdo bravissimo come se fosse un sogno credono fantastico fantastico andiamo subito a mettere un like a questo video Cioè ragazzi ha solamente 1747 iscritti Quindi correte subito ad iscrivervi Perché credo che da domani questo ragazzo sia il più cercato dai maghi Da notare anche Shillim tra i commenti Sicuramente è rimasto impietrito anche lui Vado a mettere anche un like Cioè ho deciso di fare una mia prima reazione Perché questo video secondo me batte tutti i video di magia Cioè è assurdo Quindi se questa esibizione è stupita anche voi Siete rimasti di stucco come lo sono rimasto io Lasciate un bel commento scrivendo cosa ne pensate E un bel like per un nuovo video Grazie a tutti Grazie a tutti